Ciao viaggiatori, in questa magnifica giornata di sole volevo cogliere l'opportunità di condividere con voi una grande consapevolezza ed è proprio quella di essere al servizio della vita e quindi non soltanto vivere per noi stessi o in funzione di noi ma riuscire a contribuire manifestando la propria consapevolezza attraverso la quotidianità dei gesti con i quali possiamo veramente in qualche modo contagiare o contaminare con il nostro amore con la nostra luce con la nostra energia tutti coloro che in qualche modo incontriamo sul nostro percorso e perché no e diventare allo stesso tempo seminatori d'amore come dicevo tempo fa in un in un video precedente la cosa straordinaria è proprio è proprio questa riuscire a smettere di lamentarsi e cogliere tutto quello che accade come una grande opportunità e manifestarlo con la propria luce con la propria forza con il proprio coraggio con la propria determinazione ma soprattutto con la propria consapevolezza ed è questo che davvero fa sì che ognuno di noi possa mettersi al servizio della vita e inondare d'amore tutto quello che sta accadendo perché la grande rivoluzione sarà la rivoluzione del cuore e attraverso il cuore noi possiamo veramente cambiare il mondo vi abbraccio viaggiatori ciao